Pala per Boniek Rossi vince un contrasto, Rossi carica il destro la parata di Terraneo Galbiati avanza Galbiati, pensa al tiro, poi si appoggia Hernandez porta la palla sul destro alto avanza Boniek l'esterno la mette dentro il controllo di Bettega, si gira a Bettega il palo, dice di no al numero 7 della Juve a tutta corta la cross in mezzo, Tardelli la parata di Terraneo, arriva Platini Juventus in vantaggio 1-0, Michel Platini Rossi di Gentile sul secondo palo, Rossi la parata di Terraneo batte Platini Tiro di Boniek, altissimo Bettega controlla con il tacco poi di testa, arriva Boniek riesce a vincere un contrasto si appoggia Platini centrale, Terraneo Torrisi, il colpo di testa risposta di Zoff Galbiatici prova dalla distanza fuori di poco pallone in mezzo arriva in corsa Boniek non trova lo specchio della porta alla per Bertuneri la mette giù con il sinistro la parata di Zoff a la parata d'un